Ciao a tutti, siete su Scabinibull, analisi tecnica FANTOKEN to the moon, sigla! FANTOKEN stanno esplodendo grazie a Santos. Quante roba? Questa è Santos? Infatti andiamo a vedere il daily. Daily estremamente interessante, soprattutto se andiamo a vedere il weekly addirittura, perché abbiamo fatto, faremo, farà, chiusura del corpo più alto di sempre sul weekly. Quindi, fantastico. Per questo poi c'è stata l'esplosione. Questo è un punto estremamente trigger. 8.8 è andato addirittura a 16, addirittura a quasi 17. Fantastico. Quindi, movimento tecnico enorme di Santos. Ho beccato qualche... questo punto trigger qua, poi è esploso. Ma abbiamo anche altri. Alpine, che è appunto Formula 1. Filiate, sono calcio. Anche qua, Alpine. Questo era il momento super trigger. Esplosione, è andato addirittura a 5. Roma. Roma. Abbiamo il super trigger. C'è anche questo spike qua. Comunque, niente male. L'avamo segnalato qua. Porto. Ah, tra l'altro, Santos, lo avevamo segnalato. Nell'ultimo video, andate a vedere, avevamo segnalato questa rottura. Questa rottura qua, che poi ha già fatto questa candela qua, del 23%, che era già qualcosa di enorme. Ma oggi quella candela, per adesso del 115, ma è arrivato al 160, una roba del genere per cento. Insomma. E... sono messi bene. Andiamo a vedere, aspetta, qualche altro. Ecco, questo deve ancora esplodere. Questo è Paris and German. Perfetto. La 203 ha fatto la resistenza, quindi andiamo a rivedere. Domani, se non va a fare chiusura a candela sopra, domani, venta estremamente trigger questo livello qua, di Paris and German. Juve. Juve pure, non è esploso. Ecco, qua abbiamo un trigger molto potente, che è questo qua, questo punto alto. Però siamo già tornati indietro, quindi domani ricordatevi che superare, superare i massimi di oggi, quindi dal giorno precedente, è molto trigger. E poi abbiamo il momento vicino. Questo è decisamente interessante. Juve. Quindi domani superare i massimi di oggi, abbiamo poi i massimi di questa conformazione nella vicinanza. Vediamo un attimo. Weekly. Weekly, fantastico. Sarebbe la rottura della 60. Fantastica. Teniamo d'occhio Juve, quindi. Parisi and German, invece, la 223. Nel daily, nel weekly, invece, la 60 distante. Parcellona, questo è il daily. Ok, rompiamo la 60, ha già rotto il trigger, è tornato indietro, quindi qua rimaniamo per domani, rimangono tutti interessanti. ATM, bello, bellissima rottura della 223, tutte candele sotto senza nessuno spike. Interessante. Vediamo da 30 minuti. 30 minuti. Siamo sotto la 10. City. Vediamo daily. Anche qua ho breccato il trigger, quindi domani comunque abbiamo i massimi di oggi interessanti. Vediamo weekly. Weekly interessante. E poi direi basta, queste sono le migliori. Torniamo su Santos un attimo, perché andiamo a vedere, time frame a un minuto. È andato a fare la rottura da 10, non ha funzionato, ha fatto un minimo ribalzo, ma adesso stanno giù. Dove sta andando? Cambiamo time frame. Andando verso la 10, per questo che c'è l'alert qua, andiamolo verso la 10. Che appunto ha fatto una salita enorme, fai conto che solo questa candela qua è del 42%, candela di un'ora del 42%, quindi ha bisogno di riposarsi. Vediamo se riesci ad andare a testare la 10, non sarebbe male. E nel daily appunto poi teniamola d'occhio anche per domani e soprattutto per il cambio candela. Comunque tutto il mercato è tutto su, grazie a Santos. Quando c'è qualcosa in un certo settore, come se Send nel metaverso facesse più 50, tirerebbe su poi tutti gli altri, tutti gli altri del settore. Qua invece è stato Santos. Quindi nonostante Bitcoin, faccia schifo. Questo è il daily. Ieri ha fatto questa bruttissima chiusura sotto, però l'abbiamo già fatto altre volte. Altre volte abbiamo fatto la chiusura sotto, addirittura due candele, poi è accelerato. Quindi vediamo. Però non abbiamo risolto niente. Anzi, quadro economico. Siamo unissimi. Malissimo. Inizia sempre la guerra. Possibile invasione della Cina con il Taiwan, il Covid, il vaiolo, l'inflazione. Insomma, ragazzi, non abbiamo risolto nulla. Ma comunque, e Bitcoin appunto non è messo bene, Ethereum ha fatto la sua rottura da 10 ieri, ma siamo già sopra. Ma ricordiamoci appunto che, allora andiamo a fare l'analisi un po' fatto meglio. Qua comunque si è ben rotto anche il canale, più o meno, siamo più o meno al canale. Allora, brutto sarebbe adesso appunto andare a chiudere sotto, adesso che abbiamo fatto il nostro rimbalzino. Quindi non vogliamo vederlo arrivare ai minimi di ieri. Questo sarebbe trigger per pura probabile accelerazione a ribasso. Quindi facciamo attenzione, se facciamo trading mettiamo sempre un alert vicino ai minimi. Buon segnale ovviamente sarebbe tornare sopra, ma comunque chiusura sopra sempre alla 60. Quindi tornare sopra la 60. Vediamo. Vediamo. Oggi fra l'altro è giovedì. Sì. Quindi prima del weekend vediamo se riesce a tornare sopra. Comunque questo è un rimbalzino, non è andato neanche a testarla a 5. E quindi non è un gran segnale. Cioè è tipo una giornata di riposo. Se finisce così con questa candellina, domani attenzione a questo minimo. Mettiamola un po' prima. Un po' prima dei minimi. Facciamo attenzione. Nel weekly, ho fatto la finta sulla 10, quindi non è riuscito a chiudere candela sopra la 10. Adesso stiamo andando sotto. Molto male. Nel mensile invece, siamo ancora distratte da 5, niente. E tiro invece, siamo sotto la 5. Weekly però siamo sopra la 10. Ok. Vediamo velocemente gli altri. Allora, torniamo nel daily. Allora, ha cambiato il microfono. Finalmente ho un microfono che non devo tenere in mano. Incredibile. Ma ho una voce bassissima, quindi... E lo sto testando, quindi vedremo. Vedremo se in questo video si sente bene. Nonostante sia distante. Vedremo. Allora, questo è il BNB che oggi sta facendo una brutta candela. Cioè, oggi ha rotto... Molto brutta questa, eh. Ha rotto i minimi di ieri rispetto a Bitcoin e Ethereum, molto più debole. Sol sta facendo il rimbalzino. Santos assolutamente verde. Cioè, vi ricordo che l'ultima analisi tecnica eravamo qua e segnalavo la rottura. Lazio, cosa ha fatto? Lazio, fantastico. Ci ha fatto il suo movimento. Adesso bisogna solo aspettare le conformazioni. Niente. A 30 minuti è già rotto. Ah, ecco, a un'ora ci siamo. Anche qua. Anche qua con Lazio ci siamo a un'ora. Vediamo. Cinque minuti. Vediamo a un minuto. Sta tornando sopra a 223. Io trarai d'occhio questi due. Soprattutto Santos, ma anche in Lazio. E... MediCamp sotto. Bruttissima candela oggi. Ho superato come di ieri. Ecco qua, almeno siamo a prestare la 60. Gala, andiamo avanti. Poi quando non troviamo qualcosa di interessante. Questo cos'è? Avax. Avax, dritto dritto, sono 60. Non deve chiudere sotto. BNX. BNX sta tornando interessante. Questo è il primo livello, trigger. Questo è il secondo. Andiamo. Cro. Niente. Questo cos'è? Santos. Com'è Santos? Siamo già tornati su. Vabbè. Andiamo avanti. Jasmine. Andiamo a prestare la 60. Pot. Mantic. Luna. Andiamo se troviamo qualcos'altro. Light con la 60 sta tornando. Shiva. Ah, anche Shiva è l'ultimo video analisi. Ho segnalato la rottura. Guardate che candela. Candela 33%. Attenzione quindi al ritesto della 10. Dolce. Ci soffermiamo quando vediamo qualche conformazione. Niente. Andiamo a vedere i migliori appunto. Vediamo perché l'avevo segnalato. Ho segnalato questo alert su Santos. Ah, è tornato sopra la 60. Quindi a 30 minuti ha fatto una finta, no? Attenzione allora, già qua. 5 minuti. Cosa abbiamo? Questo è il livello trigger. Ah, vi ricordo che appunto con il webinar del 3 settembre andremo a fare proprio questo tipo di ragionamenti dal vivo. Ok? Quindi dal vivo andremo a vedere tutti i ragionamenti. Candela per candela. Quando fare l'ingresso e quando fare le uscite. E che conformazione aspettarci. Ok? E quando? Questo è bello. Contesta candela. 2%. Adesso diventa interessante. Chiusura candela sopra la 223. Sperando che riposi un attimo. Nel frattempo magari finisco anche il video. Quindi andiamo avanti a vedere il Nasdaq. Questo è il day del Nasdaq. Quindi ieri è fatto candela rossa. È andato a testare però allo 200. E oggi stiamo rimbalzando. Non deve assolutamente, assolutamente far chiusura candela sotto la 200. che sarebbe un guaio perché sarebbe sia sotto la 200 ma soprattutto sotto la 10 che comanda da tantissimo. Quindi dopo rischiamo grosse accelerazioni fino alla 50. standard and pull si è messi uguale. Aspetta, questo è. S500. Il DAX. DAX è potente. Non siamo ancora sulla 50 ma comunque ieri bruttissima candela. Oggi è rimbalzino. Attenzione a superare questo minimo. Questo minimo è brutto. Dopo andremo direttamente alla 50. Pezzafari tiene la 10. La Russia accelera. Attenzione che chiusura solo per la 50. Qua butta benissimo. Possiamo anche togliere il rosso. Cambio. Oh, il dollaro torna verso 1. Verso il parità. Spianchi rimanga lì. Sterlina. Euro sterlina. Niente di che. Coloro australiano. Ah, ha fatto la chiusura sotto. Non è andato a fare i minimi ma ha andato a fare chiusura sopra la rottura. Quindi no good. Quindi adesso qua andiamo a prepararci per poi andare a fare qualcosa di positivo. Quindi togliamo il rosso. Quindi hai capito? Ha fatto la rottura, accelerato. Qua c'era il trigger per andare a ribasso. E invece ha fatto chiusura sopra il momento trigger a ribasso. Quindi va a invalidare tutto quello che è la discesa. Quindi adesso può fare delle candeline di riposo per poi accelerare. Per fare, UCG. Non rompere la 200. Molto interessante. Se lo rompesse. Per come Italia aveva fatto questa accelerazione perché si diceva che avrebbe con il governo della destra, con la Meloni, l'avrebbe portato al delisting. Invece sembra che sia un po' più complessa la cosa. Si è rimangiato tutto. Terranis, vediamo se prende qualche conformazione. Saras. C'è conformazione. Questo ci piace. Ah, questo è Cypem. Incredibile Cypem. Niente, non è riuscito a fare chiusura sopra la 10 e è riecelerata di basso. Cypem è incredibile. Lo schifo che fa. Rieceliamo. Race. Anzi, quando è che abbiamo lo short fatto bene? Siamo ancora distanti. Dai. Ci abbiamo ancora un po'. Segnariamolo. Sì. Questo livello diventa di nuovo il primo short. Race. Pirelli. Nexi. Uh, questo è bello. Moncler. Attenzione Moncler. Attenzione Moncler. Ci siamo quasi. Molto interessante. LDO. Ci stiamo avvicinando a uno short che sarebbe fantastico questo livello, però abbiamo a 200. A tenere d'occhio. Ci mettiamo anche il bollino rosso. Tesa San Paolo. 10 e 50 tengono benissimo. Anche qua, fin cantieri. Pronti per lo short. E nel no. Monte di Paschi. Eh, siamo pronti. Fra poco far tirare l'omento di capitale Monster. Attenzione. Attenzione. Questo short qua. Attenzione. Livello estremamente trigger. Siamo già lì. Monte di Paschi. Va bene. Andiamo su America. Apple. Ma questo è il daily, sì. Apple non si ferma. Potentissimo. Potentissimo. La rottura dell'Eva 5 è già ottima per lo short. Chiusura candela sotto le 5. Tesla. Siamo lì. Pronti per andare a fare un terzo tocco. Twitter. Snapchat. Snapchat. Peccato. Se no. Domani avremo avuto il bad. Non ce l'abbiamo. per la rottura dell'Eva 5. Attenzione. Piccola. Piccola. Chiusura sotto la 50. Qua partiamo con lo short. Molto male. Molto male. Qua. Anzi mettiamo già anche un rosso. Chiusura sotto sarebbe molto negativo. Io. Netflix. Sta creando un livello interessante Netflix. Testata la 10. Accelerando. Sarebbe carino che testasse e andasse poi il terzo tocco. Moderna. Questo non me l'aspettavo la Moderna. Molto negativo la chiusura. Ieri sotto la 50. Bluto. Vediamo. Però tenetelo d'occhio eh. Per ottobre, novembre. Se il caso del covid dovessero aumentare. Tenetelo assolutamente d'occhio. Meta. Wood. GMA. Ford ha fatto la rottura. Ci ha tornato sotto. Testata la 10. Diwak. Attenzione. Ci stiamo arrivando. Disney. Coin. Cos'è questo? Ah. Beyond Meat che va a testare la 50. Meta Baba. Baba. Stiamo preparando uno short interessante. Mettiamo rosso. Poi c'è il discorso del delisting dei cinesi. Attenzione. Qua sarebbe un terzo tocco short. Molto interessante. Amazon testa la 10. AMC. Wow. Dissima questa discesa. Comunque anche a chiusura sotto a 200 abbiamo comunque la 50 nella vicinanza. Però bruttissime due candele. Bisogna vedere a 30 minuti per un rimbalzo. Quindi un antincrocio. Petroglio. Oggi è fatto il suo rimbalzo del 3%. Non sono uscito fuori i dati. Attenzione poi che se potesse fare l'antincrocio. Soprattutto se dovesse rimbalzare. Adesso che abbiamo avuto un minimo di inflazione stabile nell'ultimo mese. Nonostante questo crollo abbiamo avuto un'inflazione stabile. L'inflazione doveva crollare ma è stata stabile. Se poi ci torna il suo petrolio sono guai. Guai seri. Argento crolla. Gas. Gas che per questo è... Gas sta tornando su. I massimi. No good. Assolutamente no good. Caffè. 2.10 potrebbe essere un segnale short. 2.10. Vediamo. Pettiamo anche un rosso. Gold. Gold è là sotto. E poi direi... Ah, vediamo questo pezzo a fare. Algo, guarda. Interessante. Daily molto interessante. Vedremo domani. Vediamo un verde. E Price. Price chiuso sopra la 50. Ma c'era... Ecco questo. Gasprom. Fate attenzione Gasprom. Con il gas alle stelle. Qua guardate cosa ha fatto l'Utero. una volta. Attenzione, attenzione. Per un pelo non è tornato suo a fare i massimi. Altrimenti li avrei comprato. Tenere ad occhio domani. Sono molto esteso. Però comunque magari domani apre un po' a ribasso. Tornando a superare i massimi di oggi. Superare i massimi di oggi. Trigger. come oggi quando hanno superato i massimi di ieri. Fatto Trigger. Tenetelo d'occhio. Bene. Detto questo ragazzi. Lunedì Casa Bull. Parleremo di un sacco di cose. Torniamo. Lunedì ore 19. Lunedì ore 19. Casa Bull. Poi iscrivetevi a YouTube. Due canali Telegram. Discord. Twitch. Ah poi le regioni. Le stanze. Aspetta vi faccio vedere. Le regioni. Aspetta. Le regioni. Le regioni. Dove sono? Qua. Eccoci qua. Faccio vedere. Allora. Tutte le regioni adesso non hanno più. Si torna a come aveva fatto all'inizio. Quindi. Quando volete iscrivervi. Alle regioni. Per conoscere persone di vostra regione. E poi fare i meeting. Andate semplicemente su Discord. Come facciamo all'inizio. Cliccate la vostra regione. E. Scrivete. Ciao sono nuovo. Quando è che vi trovate? E si iscrive qua. Abbiamo dovuto. Togliere tutti i gruppi Telegram. Gruppi Telegram. Non esistono più. Nella Bullfemmine. Ok. Sono intruffolati. Fuffaguro. Anche lì. Tutti bannati. Eccetera. Quindi. E' dovuto bloccare tutto. Quindi. Come si faceva una volta. Si iscrive qua. Senza problemi. Vedete come stanno facendo. Si iscrivono qua. Così. Vedi. Neanche sapevo che la chat è legata la regione. Perfetto. Così. Tutti i nuovi. Quando arrivano. Sanno già. Quando vi trovate. Dove. Come. Quando. Ok. Ciao a tutti. Tutti. Sanna.